Gentili telespettatori, buona giornata, la Meloni diventa la regina degli scacchi, mi ricordo una canzone, la regina del celebrità, ve la ricordate degli 883? Tu la regina del celebrità, va bene, la regina degli scacchi, Bisignani dici sono tutti pazzi per lei, così Luigi Bisignani in un articolo sul tempo parla di un cambiamento storico della politica, più, dice Bisignani, alleati e opposizione si prodigano per cercare di mettere i bastoni tra le ruote a Giorgia Meloni, dal PNRR, le Accise, i Balneari, il MES, più all'estero, al contrario, sono tutti pazzi per Giorgia. Per mesi la stampa allineata, insieme ai cori degli intellettuali sinistri, ha dipinto la Meloni come una specie di mostro pericolo per la democrazia, che sarebbe stata cacciata da tutti in Europa e nel mondo, sarebbe stata isolata perché comunque è di destra, non capendo che poi la destra è presente in tutto il mondo e si chiamano conservatori, mentre secondo l'intelligenza di sinistra i conservatori italiani sarebbero stati allontanati da tutti i gezzetti, da tutte le kermesse, qualsiasi cosa, ecco, bandita dai simposi internazionali, isolato il nostro paese. Ma allo stato di fatto di oggi si è verificato esattamente l'opposto. Così, anzi, per esempio, Enrico Letta è riuscito perfettamente ad allontanare tutto in modalità di un atteggiamento più prudente. Bene, da underground, ve lo ricordate, la Meloni che diceva sono un underground, a rilevazione, o meglio, rivelazione internazionale. Infatti si è mossa perfettamente la Meloni in Europa, nella Nato, con i rapporti con i leader di mezzo mondo. Ha incontrato poi il presidente del PPE europeo, Manfred Weber. La Meloni lo ha incontrato in qualità di presidente del Consiglio italiano, ma anche in qualità di presidente di un grande partito europeo dei conservatori. Ovviamente in Forza Italia non ci hanno visto più, soprattutto Berlusconi, l'invidioso, che quando ha visto la Meloni incontrarsi con il capo del PPE, dove Forza Italia è nel PPE, si è sentito proprio perso. Come? Io che per mesi sono andato in giro a dire che io sono la trade d'union, cioè Forza Italia è quello che terrà i rapporti con l'Europa, perché, insomma, Salvini e la Meloni sono quelli lì, allora saremo noi a tenere i rapporti ottimi con l'Europa, perché noi siamo nel PPE. E così quando la Meloni incontra il capo del PPE a Palazzo Chigi, senza neanche fare una telefonata a Berlusconi, si è sentito cadere il mondo addosso. Dice, ma come? Io che mi vantavo di questo e di quello, e quella là va a incontrare il capo del PPE. Ma la intenzione della Meloni non è di entrare nel PPE, cosa che invece Salvini voleva fare già da qualche tempo, ma creare un'alleanza tra conservatori europei e Partito Popolare in modo da mettere fuori gioco il Partito Socialista Europeo, PSE. Potrebbe riuscirci la Meloni, in questo gioco politico europeo, e sarebbe garante anche, per esempio, di altri paesi come Romania, l'Europa dell'Est, come la Polonia, l'Ungheria, ecco, e con, ad esempio, anche Orban, per evitare di farli finire da quella parte, da quella parte russa. Così Bisignani dice che la Meloni è la regina del gioco degli scacchi. E beh, l'abbiamo visto anche, è riuscita a fare leggere la russa, dopo che Berlusconi aveva preparato la trappola. La Meloni ha trovato 20 persone, non si sa, nessuno ha capito mai come, dove e quando, che hanno votato per la russa. È riuscita a scongiurare lo sciopero dei benzinai, ha parlato con loro e lo sciopero non c'è più. Pertanto, la Meloni si muove molto bene nella sua partita a scacchi politica. Ecco, poi ci sono anche delle finezze che in pochi notano. Due modi per andare a Washington, o ci vai direttamente, dice Bisignani, o vai a Londra e da lì poi vai a Washington. Giorgia ha scelto la seconda, ecco, perché là stanno preparando una visita di tutto riguardo, e perfino il leader cinese Xi Yi pare abbia chiesto di poterla incontrare nuovamente, perché la ritiene l'unica premier del vecchio continente dotata di carisma per una leadership forte. E poi le testimonianze, anche le parole usate da Papa Francesco dopo l'incontro che hanno avuto in Vaticano. Notorialmente Papa Francesco è allergico alle visite dei politici, ma con Meloni è stato assolutamente differente. E Bisignani dice che la Meloni è molto scaltra, molto molto scaltra, e questo è dovuto comunque a lei che è fatta così, e comunque alla militanza in politica da decenni, che gli hanno fatto capire come potersi muovere in questo ambiente, che certo non è un ambiente dei migliori, quello della politica. Insomma, diciamo che è riuscita anche, e riesce oggi a farsi consigliare da Draghi. Dietro di tutto c'è anche la regia di Draghi, attenzione. Dietro le quinte c'è Draghi, che aiuta Meloni, più che altro gli fa notare e gli fa presente cosa si dovrebbe, cosa non si dovrebbe fare. Quindi c'è un consigliere importantissimo di questo governo, che è proprio Mario Draghi, un consigliere sull'economia. E vi ricordo, ad esempio, che Mario Draghi, quando era presidente della Banca Centrale Europea, quando c'era Obama negli Stati Uniti e Obama aveva un problema economico, diceva ai suoi, telefonate a Mario e chiedete a lui che cosa fare. Pensate un po', telefonate a Mario. Ecco, oggi non è più Obama a telefonare a Mario, ma è la Meloni. a telefonare a Mario per chiedere che cosa è meglio, cosa sarebbe meglio o no fare. Ma tutto, assolutamente, dietro le quinte, è tutto sotto silenzio. Grazie a tutti e arrivederci. A presto.